Mac in bed, he will receive his prize quindi adesso diamo il primo premio del Vivaway a Mac in bed il primo premio ciao ciao, felicità oh mio amore grazie grazie, grazie grazie, grazie grazie, grazie grazie questo è il primo premio del Vivaway quindi alla prossima grazie mille grazie mille ne faremo altri al diecimila quando abbiamo 10k subscriber ok quando abbiamo 10k subscriber facciamo un altro premio e pensiamo qual è il gioco cioè pensiamo qual è il gioco per questo sì la gente che commenta ci sono le 1 e 3 1 commento 1 e 3 quindi per entrare nel giveaway dei 10k faremo un video dovete scrivere partire grazie ciao 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 Grazie mille, grazie mille.